Oggi si è parlato di italiani di frontiera, potremmo anche dire di marchigiani di frontiera che guardano la Silicon Valley come un'opportunità di crescita personale anche delle proprie aziende. Sì, assolutamente. La Giunta regionale ha voluto sin da subito includere gli Stati Uniti che sono un po' l'emblema, ho parlato di Silicon Valley, ma gli Stati Uniti sono un po' l'emblema dell'innovazione all'interno del piano regionale dell'internazionalizzazione. Ci sarà una missione all'inizio dell'anno prossimo dove andremo proprio insieme agli incubatori a cercare di cogliere tutte le opportunità che questo mondo offre. Perché gli Stati Uniti? Beh, intanto perché sono un paese con una grande vocazione manifatturiera e poi perché detengono due primati importanti. Sono primo mercato per il consumo di beni, sono anche il primo paese importatore. Non bisogna limitarsi solo alle potenzialità che il settore dell'agroalimentare offre, ma anche a tutto l'ecosistema dell'innovazione. Per cui il contributo che oggi noi raccoglieremo sarà proprio prezioso per organizzare la missione dell'anno prossimo che sono certa darà molti frutti.